Ciao a tutti, sono Aldo Arabia di Zoom d'Italia e sono felice di accompagnarvi da ormai diversi anni nella scelta del taglio digitale più corretto per le vostre esigenze. La nostra gamma di prodotti spazia dal più piccolo S3 alla più performante Q-Line dotata di BHS 180 in grado di soddisfare tutte le esigenze produttive, da quella della piccola azienda fino a quella della grande industria. Vi aspettiamo a Drupa sul nostro stand per bere insieme a voi un caffè e parlare di quello che sono le vostre esigenze d'Italia. Vi aspettiamo numerosi, ciao a tutti, a presto a Drupa!